quella di l'alcolla che siamo montati su a spinta l'altra volta di qui da quando si arriva in fondo c'è la deviazione a destra per cozzire vai con dio sinistra sinistra fermo sinistra a parte la di là vai vai va bene vai sinistra dovrebbe essere uguale no guarda una sega si vai va a sinistra v vai come chiota goku controllo che ha preso ok ok E' un'è sinistà eh? sinistra sinistra si vai vai ormai tardi ascolta di qui ora spengo di qui vi vai a coso